Buonasera. Alessandra prima accennava Google Maps, azzurra poi alle mappe. Dora nell'ultimo intervento si riferiva alle nostre risorse proprio come dei tesori nascosti. Allora io ripartirei proprio da qui e domando se avete mai pensato al vostro corpo come una mappa del tesoro, una mappa ricca di indizi che possono portarci proprio là dove vogliamo andare, verso una terra di ricchezza, di abbondanza e di appagamento. Quando ci approcciamo a una mappa del tesoro, se ci pensate, se vi è mai capitato da più o meno piccoli di farlo, inizialmente gli indizi possono un po' sembrare arcani, quasi illegibili e diventano sempre più chiari man mano che osserviamo la mappa e ci stiamo un po' su. Non è che fin dall'inizio gli indizi siano proprio di semplicissima lettura. Ecco, proviamo a pensare al nostro corpo come una mappa disegnata per rivelare la pista che ci porterà il tesoro. E quindi quali sono gli indizi di questa mappa corpo che abbiamo, che possediamo, che siamo? Gli indizi sono tutti quei piccoli e grandi stati di tensione e di rilassamento, di carica e di scarica, per dirla anche in termini energetici, che continuamente si muovono, si spostano da un punto all'altro. Ci sono delle tensioni di stato, quindi temporanee, come il respiro un pochino alto e corto, qui sul petto, a chi non è capitato durante un incontro che magari ci agita. Oppure delle tensioni di tratto, invece, abitudinarie, come l'abitudine, ad esempio, di stare in piedi, con le ginocchia completamente rigide. Oppure di avere quella mascella tendenzialmente un po' serrata durante la giornata in ufficio, magari di notte. Ecco, questi indizi sono anche degli esempi molto comuni che ognuno di noi può vivere, fermarsi e osservare anche più volte nell'arco della giornata. Tutti questi e molti altri sono però, dobbiamo considerarli, come degli alleati, degli indizi preziosissimi che arrivano proprio dal corpo e che ci dicono come stiamo in quella determinata situazione lì, in questo determinato momento. Ecco, a volte non riusciamo a mettere a fuoco il nostro stato d'animo e quindi reagiamo, è stata utilizzata già questa parola, no? Non è che agiamo, reagiamo alle situazioni un po' con il pilota automatico, come d'abitudine, anziché magari trovando la giusta risposta proprio in questo momento, in questo contesto. Esplorare il nostro modo di stare nel mondo, guardando, ascoltando il corpo come fosse una mappa del tesoro, però proprio aiutarci a leggere tutti quegli indizi che il corpo non lesina durante tutto l'arco della giornata. Significa fermarsi a osservare con attenzione, nominando, dando nome alle cose, perché ad esempio il respiro corto di cui parlavo prima, durante un incontro col capo, può rivelare uno stato di insicurezza, di incertezza, anche un po' di ansia temporanea, di cui magari non siamo consapevoli perché magari le proposte che stiamo facendo al capo incontrano anche il suo favore, l'incontro sta andando bene, ciò non toglie che possiamo comunque essere agitati o avere un'ansia temporanea. Questi un po' degli esempi di indizi dunque. E qual è il tesoro a cui ci conducono però? Ecco, attraverso il corpo impariamo a conoscere meglio il nostro stato emotivo. È stata utilizzata la parola stato cognitivo, emotivo, corporeo, le tre dimensioni. Quindi il nostro stato d'animo e conseguentemente possiamo togliere il pilota automatico in favore di quello che chiamerei il nostro pilota interiore, ognuno ce l'ha. Questo ci permette di mettere in campo, di praticare, di migliorare la creatività, la curiosità, la flessibilità, la capacità di essere sciolti, abili nelle relazioni, tutte quelle risorse che sono già state menzionate e che ci permettono di vivere bene in quel mondo bani fatto anche di fragilità, di ansia, di non linearità, di incomprensibilità. E a questo punto quello che mi piacerebbe proprio proporvi è quello di fare una piccola esperienza insieme, quindi parlare un po', passare un po' dalle parole ai fatti. Ho pensato, dato che siamo a fine giornata, che potremmo provare ad ascoltare come sta e cosa ci dice la nostra testa. Proviamo quindi adesso insieme a mettere in campo una pratica, vi guido ovviamente, che può aiutarci a darle sollievo laddove ne abbia bisogno. Perché la buona notizia è che non solo possiamo leggere gli indizi, ma possiamo anche intervenire sul nostro corpo, modificandoli e inviando al nostro sistema psicocorporeo dei segnali che possono modificarne e migliorarne lo stato. Quindi stiamo per fare, adesso un po' insieme, una cosa che per alcuni può essere anche inusuale. Ecco, non preoccupiamoci di questo. Qualcuno potrebbe ritrovarsi magari con dei pensieri, dei giudizi, delle rigidità, dell'imbarazzo, o magari d'altro canto essere incuriosito, divertirsi, potremmo anche provare piacere, relax, sorpresa. Va bene tutto, anche perché lo facciamo per tutti quelli che possono ad occhi chiusi. Quindi tutti quelli che possono chiudano gli occhi e se non posso chiudere gli occhi, abbasso lo sguardo verso un punto fisso, in basso proprio di fronte a me, sfocando tutto il resto. Quello che mi interessa davvero entra in connessione con me stessa, avere la possibilità di isolarmi quanto più mi è possibile dall'esterno. Quindi chiudo gli occhi e inizio un po' a osservare, ad ascoltare come sta la mia testa. Provo a sentire se ci sono delle particolari tensioni oppure no, se ci sono dei punti magari un pochino più appesantiti a fine giornata e quali sono, oppure se non ci sono, se magari ci sono anche dei piccoli fastidi, dei piccoli dolori, li localizzo. Magari no, sta bene. Passo poi ad osservare l'espressione sul mio viso. Com'è la mia fronte? È distesa o è un po' corrugata? Le mie sopracciglia sono un po' corrucciate o no? Come sono gli occhi? Se li sto un po' strizzando? Se sono completamente rilassati? Provo a sentire magari se i denti sono chiusi, si toccano oppure no? Provo a sentire se la mia mascella è un pochino serrata, è morbida, va bene tutto. Sto solo osservando come sta il mio capo in questo momento. Mi prendo un momento. E adesso che ho osservato, ascoltato tutto questo, posso iniziare a farmi uno shampoo, cioè porto proprio i miei polpastrelli a massaggiarmi la cute. Proprio come quando sono sotto la doccia nella vasca e con lo shampoo mi lavo, mi massaggio la cute. Posso farlo con energia o con delicatezza e lo faccio con energia o con delicatezza a seconda di quello che sento di aver bisogno in questo momento. La mia testa me lo sta dicendo, mi sta dando degli indizi. Ecco e poi in silenzio mi prendo qualche minuto per restare così, ad occhi chiusi, in osservazione di tutti gli indizi che arrivano dalla mia testa e dedicando alla mia testa un momento tutto per lei, un momento di cura. la sto ascoltando e sto anche un po' intervenendo sul suo stato. Ci provo. va bene tutto, va bene l'energia o la delicatezza che ci metto, va bene ogni pensiero mi dovesse arrivare, va bene far la telecamera accesa, spenta, va bene stare con la mia testa e con me stessa esattamente così come sono adesso. uno shampoo di fine giornata e uno shampoo magari con un po' di schiuma, con quei prodotti che non fanno lacrima degli occhi, quelli per i bambini, quindi può andare anche ovunque la mia schiuma. Proprio in ogni punto in cui sento il bisogno di lavare via qualcosa, di massaggiare. poi lentamente lentamente con il mio tempo, non c'è un tempo buono universalmente, inizio a rallentare e pian piano, restando a occhi chiusi, finisco questo momento di cura, smetto di farmi lo shampoo e resto un momento lì ad occhi chiusi. e quando ho finito provo di nuovo a osservare questo tratto di percorso della mia mappa del tesoro e mi domando e osservo come sta ora la mia testa. se ci sono gli stessi punti di tensione, di rilassamento, di fastidio, di pesantezza, di leggerezza. com'è l'espressione del mio viso? è cambiata? qualche muscolo si è rilassato rispetto a prima? magari ho avuto l'effetto contrario, eh? magari adesso ho la mascella serrata e prima non l'avevo. va tutto bene, l'importante è che io osservi questi indizi. e pian piano posso fare anche emergere una sola parola che rispecchi il mio modo di sentire questa esperienza. può essere imbarazzo, leggerezza, calma, divertimento, benessere, ridicolo. va bene tutto, lascio che emerga la mia parola. e poi lentamente, sempre col mio tempo, riapro gli occhi. torno a riaprirmi al mondo esterno. pianino. non vi vedo tutti perché molte avete le telecamere spente. spero che ci siamo tutti un po' riaperti all'esterno. per dirvi solo che piccole attività di questo tipo ci permettono proprio di allenare certe nostre competenze. in questo caso, ad esempio, ci siamo osservati, quindi la famosa consapevolezza anche in parte di cui parlava prima Dora, ci siamo lasciati andare, abbiamo usato. allenarci, fare esperienza continuativa, ripetere pratiche di questo tipo ci permette proprio non solo di attivare competenze momentaneamente, ma prima di tutto ci permette di imparare a riconoscerle e riconoscere a noi stessi che le abbiamo o che ne siamo carenti. e poi quindi ci permette di svilupparle. solo in questo modo possono entrare a far parte della nostra vita quotidiana, attivandosi poi ogni qual volta la situazione lo richieda. con piccole pratiche di questo tipo attiviamo, alleniamo e diamo voce al nostro pilota interiore, si diceva prima, togliendo la parola un po' al pilota automatico lungo la pista della nostra mappa del tesoro. e con questo io chiuderei, vi ringrazio e restituisco la parola a Francesca.